Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon inizio serata. Io appunto mi stavo accingendo a rilassarmi sul mio sdraio in una posizione comoda, con la schiena eretta ma non tesa, e nel mentre citarvi una frase di un famoso filosofo tedesco di nome Hegel che lessi da ragazza ma di cui non ricordo quasi nulla se non appunto questa frase che la si può trovare un po' ovunque, adesso c'è questa cosa bella che nei social si possono leggere tante belle frasi di persone famose, frasi significative. Cosa dice Hegel? Dice così, non c'è niente di più profondo che non appaia in superficie. Cosa vuol dire? Noi siamo abituati a dire che l'apparenza inganna, a mio avviso l'apparenza inganna chi non sa osservare, perché è proprio grazie non solo all'intuito ma alla capacità di osservazione che noi possiamo capire quello che c'è in profondità, ma già dalla superficie, cioè si parte dalla superficie per arrivare in profondità. utilizziamo questi strumenti che abbiamo per diventare dei buoni osservatori di noi stessi e degli altri. Vi auguro a tutti una buona serata. Ciao ciao!